L'economia italiana è in una fase di transizione verso una crescita più robusta e sostenuta, grazie anche ai significativi progressi in tema di riforme strutturali. La ripresa degli investimenti pubblici rappresenta l'altro pilastro della politica per la crescita che ne è anche complemento. Il Governo continuerà a sostenere gli investimenti sia nell'ammontare di risorse che nelle procedure di implementazione.